buongiorno a tutti sono andrea barsoni direttore dell'unità geriatrica riabilitativa di curtatone volevo informare che da oggi 10 febbraio 2020 ugr ha avviato una nuova collaborazione con uno specialista ortopedico il dottor gabriele campo chiaro di modena che opera presso il presidio ospedaliero di suzzara specialista in ortopedia e traumatologia di indirizzo spalla e gomito per chi fosse interessato per appuntamento e informazioni prego di telefonare alla segreteria dell'ente allo 0376 26 75 11